Nike Shocks presenta Atlet Armageddon! Stasera, Edgar Davids contro un camion da 40 tonnellate! Bambini a nanna! Davids vuole sangue fresco! Guarda! Una testa sacrificale dagli spalti! Chiama un esorcista, Johnny! Questo uomo è posseduto! Questo non ha certo imparato all'oratorio! Sleipare le facce! Abbiamo tutti i nostri spessi! Si, per me! Noi! Grazie.